Signor Giovanni, buonasera. Benvenuto alla finale dell'eredità. 100.000 euro questa sera in ballo. Mi pare un sogno, mi pare. È un sogno. È un sogno che si può realizzare. 100.000 euro. Speriamo, sì. Signor Giovanni, ricordiamo al nostro pubblico che l'adora, è molto affezionato a lei. Le vorrei bene, vero? Grazie. Grazie, grazie. Ricordiamo al nostro pubblico che lei è un povero disgra? Zziato. Vere? Litto. Cassa in te? Grato. Luriprote? Stato. Lo vedete che è preparato? Però sono cose mie questo. Lo vedete che quando vuole... Sì, però sono cose mie questo, potrebbe pure non dire la gente che non gliene preghi niente. Attenzione. Si è concentrato. Chi mi deve sempre dire cose mie, non lo so io. Il pubblico è molto affezionato a lei. Eh sì, ho capito. Vuole conoscere tutto di lei? Eh sì, sì, certo. Sapere della sua famiglia. Eh, purtroppo sì. Lei una volta ha portato quel cesso di sua moglie. Eh, ma perché devi dire così, Porella? Te la dico. Non serve. C'è anche sua figlia questa sera qui per la finale? No, però gli ho portato una foto che c'è una ragazzina di 16 anni, guardi, carruccia, Porella, che non sta granché bene. Ma che fa con la fascia? No, non fa... Incotra? No, Porella. Vuoi inquadrare? No, vabbè, Porella, mi piace. Molto bene. E' un incrocio fra... Vediamo un po'. E chi potrebbe essere... Tra Gattuso e Buttiglione. Ma perché Porella, scusi, eh? Eh, no, no, no. Eh, piacere. Già non sta bene, se poi gli dice così, Porella. Grazie, sicuro. Perché non la manda da Piero Angela? Una bella puntata. Fa molte puntate sui vostri. Ma come si permette? Scusi, Porella, già non sta bene la ragazzina. Scusi, signor Giovanni, 100.000 euro. 100.000 euro. Eh, speriamo. Non metta a bocca, signor Giovanni, io sono Linus e dico quello che mi pare. Ma come Linus? È Amadeus. È uguale. Ma come è uguale, signor Giovanni? È uguale, signor Giovanni. Se lei ancora non ha capito, dopo tante puntate, che è uguale. È inutile che siamo qui. Come fa, è uguale? Facciamo un altro applauso, signor Giovanni. Incoraggiamolo un po'. Grazie. Un applauso al senato.